Questa be... Oddio! Cosa? Ehm... Cosa? C'è... C'avrei avuto un problema tecnico Io non ti vedo Ehm... Ok... Ehm... Surprise! Buonasera a tutti e benvenuti Bentornati nel Minecraft Rapos Siamo tornati Io e Asenka con due nuovissime identità A me mi chiamano Puppatelo Puppatelo E io sono Sindra Tecnicamente dovrei essere una ragazza Quindi Sindra Puppatelo E cioè volevo dire... Diamanti comunque Ah ecco Come avete visto dall'intro Diciamo che la registrazione è stata un po' Particolare Perché erano le prove audio Succedono queste cose E lei non l'ha ancora visto Lo vedrà a diretta le video la prima volta Non cliccare sul diamante Non ci devo proprio andare mi sa sul diamante Ehm... E niente... Siamo tornati di nuovo con Minecraft Rapos Come è il bello da dire Ehm... L'unica cosa che c'è la differenza è da prima Vedete in alto qua qua a destra a sinistra Quadrato circolare La mini mappa che me la sono messa per comodità Nel caso ci siano cose Non ingrandisci la cosa non puoi vedere La cosa dell'app No 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 si vede Perché la mappa è dalla parte opposta quindi La mia a destra La mia a sinistra Quindi niente ragazzi lasciate pollici su se mi piace questa serie La portiamo sempre avanti E niente direi di partire Eh aspetta che ne devo girare Eh aspetta che ne devo girare Perché sono nella giungla Ok apriamo il coso Allora c'è fazioni con le armi crackshot C'è CSGO 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 Ti hanno rubato la smodonnatrice Ehm vabbè Ehm Dove sono? Che è? Davids? Ehm ehm Aia Come ci vuole danno? Che cazzo mi ha colpito? Ah ma hai colpito Allora E lo so ma io sono incassata qui Davids? Salve Aia No dai vabbè I mob pure qui Eh no Aia Ase Leggi a destra Ase Quel nome non ti ricorda niente? Ehm No Ase Ah si LOL Lo scrivo niente No Perché niente lo scrivo spesso quindi Può darsi che siamo un poco invorniti Può darsi che si riconosca No No Dove siamo? Ora? No L'ho fatta apposta L'ho fatta apposta Te l'avevo passata apposta questo Te lo sei scordata vero? Sì Ma dai Aspetta se no Fai spawn Fai spawn Spero che tu abbia registrato tutto Ovvio Ok Dove siamo finiti? Cliccami per andare alla crate Avanti Cliccami per andare ai miei omi Cliccami per andare avanti Per andare avanti velocemente Non vado avanti velocemente Vabbè Cliccami per andare avanti Aiuto Sono caduta nel luogo I WTF Crepata ma Ascolta non mi fa saltare O mi tipi da te Tipati Tipi a pupa Non ho il comando Non ho permesso di questo comando Fai spawn Anco Spawn è qua Davids Andiamo al warp regole Non funziona il warp regole Beh 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 Slash warp Oh la Spawn città Far west Andiamo a far west Le Case Siamo tornati Siamo tornati Siamo tornati E questo I'm sorry I'm sorry I'm sorry yet Permission for this Come? C'ho fame C'ho fame Credo che sia questa la crate Clicca adesso Ma è sul blocco sopra? Credo che sia il blocco la crate Ma non me lo fa aprire Perché non abbiamo chiavi anche te Le miniere verranno pressettate in 4 minuti Aspetta kit 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 miner 1 Ma che miner 1 Miner 1 Miner 1 Ma voglio cibo Non voglio un piccolo di merda Ascolta Miner 1 Ho un piccone Ok Non voglio un piccolo di merda Voglio cibo Ah ok Sono dall'altra parte Io sto camminando All'armeria Oh È chiusa Almeno è chiusa per lutto No non hai capito No non hai capito Divieni giusto qui Leggi questo cartello Il cuore Ma dici che si ricordano di noi Entra qui Avrai il doppio inventario Manutenzione Ma ancora dall'altra volta è manutenzione Vabbè Ma sai cosa Forse noi siamo venuti qua Forse questo posto non lo usano più No qua nessuno non c'è C'è l'armeria Ma ci sono i mob Nascondini Miner due volte Armeria Oh fai l'armeria Oh zona tutta nuova Vieni 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 Warp Armeria zona tutta nuova Armeria Vedi zona tutta nuova Eccola qua Armeria dei rung Cioè se fai spawn ti porta la Oh c'è un'arma che si chiama iPhone La voglio Voglio l'iPhone Armeria comune Ok Un bottone G4 Oh Ho trovato la Geocura Come la Geocura La Geocura Dov'è Ho trovato la Geocura Vendila Ti hanno copiato la Geocura La Geocura Arma Di Geometry Killer C4 C LOL Ma LOL Aerobrine qua Ah c'è il plugin di Aerobrine Ma che ne so Questo lo conosco E' il plugin di Aerobrine Questo qui Io l'avevo anche fatto vedere Io ho l'armatura Io no Trovata per terra Una merda Ma cosa c'ha? Bar della città Andiamo al bar Andiamo al bar Prendiamoci una birra Un pop corn Un coso E' qua il bar Mi scusi Cassiere Cassiere Voglio una Voglio una Coca Cola Cassiere Cassiere Non c'è neanche il frigorifero Cassiere Non c'è niente Non c'è caso Ma mercatria Gradirei una birra Oh c'è uno C'è qualcuno Tizio del mi cibo Futuristico Futuristico Aspetta Ciao Fu Fu Fufi Futuristico Ciao futuristico Ciao Buongiorno Buongiorno Fai kit Questo c'ha una Ressurrezione Dei ghiacci Vai slash kit Siete nuovi Ma nel kit C'è solo Miner 1 Siete nuovi Sì Ma dai L'avevi capito Ma che carino Ma che belli effetti grafici Questo c'ha L'hai visto che c'ha i Big game money Dovete chiedere a qualche staff Ah pure Ah Siamo appena arrivati Che bello Che bello Vabbè chiediamo tra due ore a passo Comunque cibo 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 Sì me la data non c'è un guapo nascondino di cambiare server si è il parco oddio dov'è il parco dove inizia sembra un banale parkour però dove inizia guarda sembra è sembra tipo quello che quando si sfumino un oggetto peccato non posso più star su e andiamo in un altro di questo bellissimo ma mi curiosa più fazioni opi la fazione opi poi andiamo in CSGO dai io ho provato a fare il CSGO ma sono qui ferma dov'è che sei tu sono all'opi e mi dice scaricarmi anche una texture mi dice che non sarò un pet sarei leggero vado a pescele mo sto morendo ah la gata no 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 david siamo dentro un buco ah perchè ti picchio io aspetta peta 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 fa un ok fai spawn ma donna ma si sponi il combattimento non basso cimitero al cimitero ma va di moda e cimiteri sto periodo che cosa scusate posso fare delle spawn ma perché c'è blind facciamo questo in f1 per cimitero anche andres pvp leggi andres pvp ma c'è empire power e signore 123 ma che schiena ha empire ma guarda che schifo bruttissima sinceramente vabbè vabbè non che è quella di prima cosa c'è vuoi essere più forte vai va vip ma dai poi qui il mob spawner vabbè vangolo ma barino va bene ah è uno picco il lucky block ok questo è lo staff che schifo lo spamming shot io sono f1 ah qui ci sono le chiavi ok dai ci sono le chiavi con i non puoi vincere i cast e i comandi guarda 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 questa è una cosa che fate buona ehm vai alle wap fazioni per iniziare a giocare angolo ender chest ma non posso aprirlo vabbè guarda 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 che aspetta sto frizzando un botto ok fammi abbassare aumentare un po gli fps perché perché friggio così tanto ma perché se scarso vieni qui e dove dobbiamo andare qui qua per essere trasportati completamente a random e infatti sono stato trasportata completamente tratto e cosa facciamo questi cazzo usciamo e sono già rotto le palle è perfettato brevemente esso deve essere sincero è stato molto brevemente intenso ok andiamo al si brava di soli tanto ci seguono funziona non va neanche il prassi va bene proviamo terni tiran o sky pvp viene tiran va andiamo andiamo diretti andiamo a giocare e giocare una mappa e clicca sul cartello zero persone zero persone zero persone però che parta anche due giocatori ma notore pvp ok da ok parta in giocatori ma pronta tiene tiran che schifo dai pronta nota carri carri coro teo tiene tiran carri senti carri tutto giù vieni qui che ti butto giù vieni qui vieni qui dai vieni qui fatti buttare ti buttare giù dalla mamma no vaffanculo anch'io mi ha già bene facendo così di foto anch'io no 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 non fregare io che ti voglio fregare andare da mamma a prendere il guta l'axe che dice che adesso come mi butti ci spiega ma poi dovrei cadere no poi scusi ma dice che noi stiamo giocando nella mi stiamo giocando nella tnt run e dice che la è un'altra modalità a modalità practice che sono caduta apposta vieni ci sono pocate aiuto aiuto sto la gamifica per fly mi che ca per fly ho perso ma ne valsa la pena ok è stato molto esaustivo sky sky tv pronti siamo fortissimi ma cazzo duro contro il muro proprio che c'ho il kit ok ho scelto il kit perché c'è un carbone a vabbè ma entri direttamente attacchi già direttamente se sono già pronto all'azione io sono dietro di te dietro di te ma che merda che sei dietro le spalle vieni a fare il parkour dai vieni a fare il parkour vieni a fare il parkour ah ciao che botta ninja sono ninja dai vieni perché mi da un beacon con il ninja da brasilio tu eri il il maglia aspetta ho l'arma di istruzione di massa tu sei ho le palle ho le palle ho le palle io spammo palle basta madonna madonna il kit perché mi fa figo essere vestito con le palle vi impallo tutti allora bene ragazzi abbiamo rivisto rivisto ma basta abbiamo rivisto un server che siamo stati non mi ricordavo di averlo visto ma vabbè fa cagare comunque come prima diciamo che no allora miglioramento non notati è che è vero non notati direi una cazzata se non lo dicessi ice visto come ice si è comportato con noi ai stiamo voluto da questa seconda possibilità che abbiamo visto i miglioramenti del tuo server per le palle ora nei commenti per favore di grazia non mi venga di nuovo a rompere le scatole ok è un video di passatempo non ho non vuoi insultato volete un cazzo quindi ora voto allora zero in pagella riportato settembre quanti prossimo dai volevo dire allora le mie bottete non fanno ridere un cazzo allora per le costruzioni allora che fanno pena scarica perché un beacon fermi tutti cosa ho visto da perché non vedo niente ma sono caduto senza capito del vuoto cos'hai visto scusa notti questa testa e non ci riesco a venire donna se si è bene per le costruzioni comunque quando lei riuscirà a venire a finire capito qualcosa per le costruzioni scaricate o no alla fine non erano malaccio al fin dei conti comunque un sei un sei piantala ma sono caduta senza saperlo e stesso anche a me prima per le costruzioni gli do un sei tranquillamente perché alla fine le costruzioni c'erano per come era l'altro per il certaggio di tutto se non sbaglio per il certaggio di tutto a parte vabbè che sono andati siamo andati a fazioni opi non abbiamo capito un cazzo siamo andati parte fazioni opi e vado modetta che non c'erano e fatto che la modalità nel nel coso dettiene tirano fosse sbagliato sono più errori di tutti era il warp però la fin dei conti il settaggio è stato migliorato comunque bella degli effetti fanno un po allagare certi punti però è aumentato gli fps per capire quindi niente direi che comunque pensate di tutti vi do un 5 perché comunque dai l'impegno l'ho visto che c'è stato sono generoso sono un santino e per la pazienza mal di gola è proprio per la pazienza dello staffer non abbiamo visto stato non abbiamo visto una stabile visto un player sarà due mele date il cibo nel kit per pietà perché sennò mi viene da piangere solo kit minor mi spiace ma questo non posso darmi più voto vi do un 2 non posso darmi un voto più alto come ne serve l'impegno madonna non trovi mai un suo staffer ogni tanto peccaro non mi dispiacerebbe per il divertimento il voto finale 5 neanche perché allora è stato carino e fatto le costruzioni e fatto delle modalità come questa è semplice ma ci sta a un momento non sai cosa fare cazzeggi entri dentro e ti diverti un po per quello non mi diamo non c'è un voto basso intanto il mio futuristico per quello non si dà un voto basso ma neanche troppo alto perché alla fine in fazioni così così sono un po non si capisce un cazzo di ciao di nuovo a quello di prima sai che mi raccomando ragazzi e poi il suo video vi ricordi una sala sapere sul video commentato con il video dovunque soppostare la serie e sindra commentato il condito dovunque anche accesso mi raccomando a frizzata e niente per un momento possiamo dire che è finita ciao intanto faccio pubblicità tatatata pubblicità bonshi bonshi bonbon ti piace vincere facile vaga l'arbitro e davis amico 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 sei pupatello o adesso tutta sta confidenza è vero cosa si è vero un altro arrivato ciao ragazzi di salute